Gentili telespettatori ben ritornati al consueto appuntamento. Si dice che più guardiamo nel profondo della natura e più ci accorgiamo che essa è piena di vita e proprio della bellezza e della vita dell'altopiano dei sette comuni ne parliamo oggi con il sindaco di Gallio Emanuele Monari che è venuto a trovarci qui nei nuovi studi di Bassano del Grappa. Benvenuto e ben ritornato sindaco. Grazie Ida, buongiorno e un saluto a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Sindaco parliamo di questo meraviglioso territorio a 360 gradi. La natura si sa allestisce spettacoli meravigliosi ed il palcoscenico immenso. Un palcoscenico di cui lei non è stato solo spettatore ma è stato anche presidente. Sì perché lei è stato presidente dell'aspettabile regenza dei sette comuni che altro non è che la comunità montana. Ci raccontiamo un po' assieme questa meravigliosa esperienza di cui lei ne va anche molto orgoglioso. Certo veramente grazie dello spunto sicuramente lo affrontiamo insieme. Vengo eletto nel 2016 dopo due anni dalla mia elezione dal sindaco di Gallio e sono rimasto in carica fino al 2021. Un'esperienza molto importante, un'esperienza che mi ha segnato in maniera positiva perché rappresentare l'alto piano è una cosa unica e rara e ho avuto la fortuna come primo sindaco di Gallio di essere contemporaneamente anche nominato presidente dell'Unione Montana. Quindi molto soddisfatto di quello che ho fatto. Ma raccontiamo un attimo ai nostri telespettatori come lo vede lei l'alto piano dei sette comuni? Io come dico spesso l'alto piano è l'unico baciato dal sole dove le persone devono venire per in qualche modo rigenerarsi come fisicamente, mentalmente perché da noi si vive bene, non ci sono gli autovelox, non ci sono i semafori, quindi chi sceglie l'alto piano lo sceglie perché fisicamente deve rigenerarsi, deve stare bene e deve vivere a contatto stretto con la natura. E cosa vuol dire essere il presidente dell'Unione Montana? Perché lo sappiamo è un lavoro di volontariato. Certo, vuol dire assumersi delle responsabilità, un ruolo e rappresentare tutto l'alto piano nelle sedi istituzionali ma non solo, anche in mezzo alla gente. Un lavoro, ricordavi bene Ida, di volontariato perché molti mi chificavano perché pensavano chissà quale compenso da presidente dell'Unione Montana, invece è un lavoro fatto ancora oggi in maniera del tutto gratuita e volontaria, ma lo facciamo per passione e lo facciamo e l'ho fatto con il cuore. Certo, glielo stavo proprio dicendo io, quindi passione e cuore messi insieme. Quindi lei viene eletto nel 2016, un periodo non troppo facile perché arriva subito il grosso problema della tempesta Baia, ma comunque le cose che lei riesce a fare sono tante. Le vogliamo raccontare? Diamo qualche numero. Sì, grazie. Allora diciamo che al di là appunto delle emergenze sicuramente un impegno importante lo abbiamo messo in campo per la strategia delle aree interne che grazie all'appoggio politico della regione ma anche dei vari ministeri abbiamo portato a casa in dotazione per l'alto piano 10 milioni di euro di investimento poi spacchettato in vari settori, più altri 2 milioni e mezzo di euro per le asfaltature già realizzate nello scorso anno 2023 in tutto l'alto piano, ulteriori 900 mila euro per quanto riguarda un piano di emergenza antincendio per tutto l'alto piano. Come è stato gestire il problema Baia? Sì, il problema Baia, come io dico spesso, la natura ci ha impartito una severa lezione e spero che sia anche servita a tutti noi veneti per capire che non siamo sempre i primi della classe ma quando si vuole governare o tentare di governare la natura, la natura arriva e in due minuti ti spazza via e ti riporta con i piedi per terra. Un impatto importante per tutti noi, un impatto importante anche per la regione Veneto, un impatto importante anche per il governo che per la prima volta si impattava tutti insieme in questa tragedia, in questa emergenza, in questo fatto particolare e abbiamo cercato di mettere in campo tutte le nostre forze per cercare di venire fuori il prima possibile. Tra l'altro io da Presidente dell'Unione Montana ho proprio grandi sforzi per fare una cabina di regia, realizzare una cabina di regia all'interno dell'Unione Montana proprio per mettere insieme tutti gli enti, tutti i sindaci per trovare in quel momento la soluzione più veloce. Anche perché era l'unico ufficio regionale, unico nel Veneto dell'Unione Montana, è vero? Sì, anche di questo ne vado fiero perché siamo riusciti grazie anche all'impegno dell'assessore Pan ad aprire appunto uno sportello distaccato regionale in Unione Montana, l'unica in tutto il Veneto per dare appunto assistenza a noi sindaci ma anche alle ditte boschive. Ma non basta, arriva e passa vaia, arriva subito dopo il Covid, la gestione del Covid. Sì, anche qui una cosa che ci ha sorpreso ovviamente tutti a livello mondiale, io di quell'emergenza ricordo un mio assiduo impegno che mi sono preso in quell'anno e mezzo con i cittadini dell'Alto Piano perché sono stato, lo posso dire tranquillamente, il primo a voler informare attraverso i canali social personali e della mia lista i cittadini su come stava andando e su come si stava evolvendo il Covid, in particolar modo sui numeri e ogni sabato Ida, io ero presente nel mio ufficio da sindaco o dall'Unione Montana per realizzare quei brevi video per informare tutti i sabato i cittadini appunto dell'Alto Piano sull'andamento del Covid. Non possiamo non fare un passaggio per quanto riguarda le piste da sci, famosissime quelle dell'Alto Piano, non solo quelle da discesa ma soprattutto quelle da fondo che lo ricordiamo i nostri telespettatori sono le più belle e le più grandi di tutta Europa. Assolutamente, l'Alto Piano vanta questo record, di fianco alle Malghe, la più alta concentrazione delle Malghe, noi abbiamo circa 350-500 km di pista che da Enego a Rozzo attraversando ovviamente Fosa, Gallio, Asiago e Roana possono veramente soddisfare tutte le richieste anche dei più esigenti sciatori di fondo. Un totale di quanti soldi spesi? Un totale per quanto riguarda le piste da sci? No, no, tutto all'Unione Montana, tutti i lavori dell'Unione Montana. Ah ok, per quanto riguarda l'Unione Montana dobbiamo anche ricordare che sotto la mia presidenza siamo riusciti a portare a casa circa 30 milioni di euro dei fondi di comuni di confine di cui appunto 10 poi abbiamo convenuto di destinarli ad Asiago per realizzare il famoso centro sportivo Merar che potrà accogliere nazionali e squadre di calcio di Serie A, questo era l'intento, un'area attrezzata camper all'ingresso di Asiago e Dulcis in fundo, ovviamente parlando di Asiago, il rifacimento del corso di Asiago per donare ancora più prestigio e accoglienza proprio nel centro di Asiago che è già di suo un bellissimo paese. Beh posso dire che lei è stato bravissimo perché io l'altopiano dei sette comuni lo conosco bene, anche io ho casa lì e le devo dire che lei ha toccato tutti i punti, tutti i punti per quanto riguarda l'altopiano dei sette comuni, tutti i lavori da fare e fatti naturalmente, però adesso entriamo nello specifico perché lei è un primo cittadino innamorato di Gallio, sì, un Gallio che a volte fa anche sorridere, lei è una persona piena di vita, piena di vitalità, piena di idee, lo percepiscono sicuramente anche i nostri telespettatori a casa e si è inventato qualcosa di nuovo, ha detto sì noi abbiamo bisogno di un centro nuovo, rifacciamo la piazza di Gallio sì, ma con una cosa importante, mettiamo un bel cartello che faccia parlare anche di noi. E cosa citava quel cartello che ha fatto il giro di tutti i giornali d'Italia? Sì, quella è stata un'idea Ida perché quando un sindaco poi viene attaccato sulle cose che fa, perché io capisco quando un sindaco viene attaccato sulle cose che non fa, ma non sulle cose che fa, allora per il senso ironico, per anche dare un segnale di un certo tipo, ci siamo inventati questo cartellone, questi due cartelli all'ingresso appunto della piazza che è in fase di ristrutturazione con il classico anziano che guarda appunto i lavori e con la scritta in vento, cosa sei, drio fare e poi declinata in tante altre lingue. E questo cartello ha fatto il giro dell'Italia, di fatto ho ricevuto molti complimenti, molti sorrisi, molte persone che mi chiedevano anche sindaci posso copiare questo cartello, posso copiare questa tua idea, ma certo ho detto, ma certo copiate pure. E allora il sindaco glielo chiedo anch'io, cosa si tendrì a fare? Io cerco di fare il sindaco nel migliore dei modi e di fatti accennavi alla piazza, la piazza rientra appunto in quel plafond di fondi di comuni di confine dove per quanto riguarda Gallio abbiamo scelto di rifare quella piazza, piazza pregiata perché abbiamo scelto un materiale che è la Trachite dei Colli Uganei, quindi forte richiamo tra l'Alto Piano e il Veneto, come era nella storia nella Repubblica Serenissima, una pietra che costa tanto ma che donerà a Gallio, al centro di Gallio, spazi nuovi, prestigio, una piazza che è direi unica quasi nella provincia di Vicenza per la sua fattezza e per come abbiamo disegnato e tagliato la pietra Trachite e sarà la piazza che di fatto poi accoglierà quelle manifestazioni di intrattenimento che oggi sono precluse a Gallio per motivi di capienza e di sicurezza. Con quella piazza noi potremo sbizzarrirci ancora di più e dar fuoco alle polveri. Si dice che quando ce n'è, ce n'è per tutti, quando non ce n'è, non ce n'è per nessuno. Allora possiamo proprio dirlo che questa piazza porterà un indotto non solo per i turisti ma anche per tutti i commercianti e speriamo anche i nuovi commercianti di Gallio. Certo, sicuramente questa piazza rappresenta anche un volano da questo punto di vista perché portare ancora più persone a Gallio, già noi abbiamo portato a casa un bel record in questi ultimi sette anni abbiamo raddoppiato le presenze turistiche a Gallio, vale a dire chi dorme almeno una notte nel comune di Gallio. Con la piazza ci aspettiamo di incrementare sensibilmente questo dato perché la facciamo apposta per quello. Anche perché gli eventi sono sempre più ravvicinati, sempre più importanti, stanno state portando la cittadina di Gallio a viverla, a poter essere vissuta ben 365 giorni l'anno e non solo nei periodi diciamo invernali, prettamente invernali o prettamente estivi. Diciamo che la visione di Gallio è quella di portarla a essere vissuta 365 giorni l'anno e quindi non possiamo naturalmente parlare anche qui delle melette, un comprensorio che è stato grandemente ricostituito sotto tutti i punti di vista, non solo attraverso gli impianti di risalita ma anche attraverso le tante baite. Certo, sì, le melette insieme con Campomulo sono i due impianti, le due location principali per l'uscita a discesa e l'uscita a fondo per il Comune di Gallio ma anche per l'altopiano hanno una valenza prettamente altopianese. Grandi investimenti fatti da noi come Comune di Gallio ma anche dai privati che si stanno adoperando per far sì che quel fiore all'occhiello di quella valle di Campomulo e delle melette che già oggi si è risvegliata in grande stile ricevendo migliaia di turisti tutti i giorni e tutti fine settimana, noi ci aspettiamo ancora un ulteriore incremento soprattutto anche nella qualità del turismo che andiamo a scegliere perché ripeto, melette e Campomulo hanno avuto bisogno di un rilancio particolare e noi questo lo abbiamo messo a terra e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Ma di turismo e sport noi ne parleremo nel nostro prossimo appuntamento perché lei tra poco ci verrà a trovare un'altra volta qui negli studi di Bassano. Terminiamo questa trasmissione con un grande lavoro in progetto, il nuovo Pallasport. Sì, abbiamo due progetti importanti, un parcheggio all'inizio di Gallio, all'ingresso di Gallio che collegherà Gallio al Gastag di Gallio che io la chiamo Gallio 2 che è un altro paese che oggi è un po' svincolato e noi lo vogliamo mettere insieme e poi sicuramente il Pallasport cofinanziato con i fondi di Comune e di Confine per dar via alla rivalutazione e riqualificazione della Valle del Pactal dove lì faremo questo palazzetto polifunzionale dedicato all'hockey, alle feste, alla pallavolo, al tennis. Una meraviglia veramente di cittadina che si rifà in continuazione e si rifà ai tempi perché il turismo cambia, le mode cambiano e anche le esigenze del turista cambia. Grazie Sindico di essere stato qui con noi, naturalmente io la rinvito qua, ci vedremo tra un po', naturalmente come abbiamo detto per parlare non solo di turismo ma anche di enogastronomia perché sappiamo che l'alto piano dei sette comuni e in particolare Gallio e le sue malghe si mangia veramente, veramente bene. E salutiamo i nostri telespettatori con un motto, sì possiamo dire che è un motto che abbiamo coniato proprio qua insieme, te lo ricordi? Era il Natale dell'anno scorso, abbiamo detto pensiamo a un motto per i tanti turisti che vengono a trovarci a Gallio e allora io lo lascio a lei questo motto e li saluti lei telespettatori con queste belle parole, con questo grande invito. Certo, per tutto quello che stiamo facendo a Gallio cari amici turisti vi aspetto a Gallio perché casa mia è anche casa vostra. Grazie, grazie Emanuele, grazie sindaco di essere stato con noi e grazie anche a voi gentili telespettatori di essere sempre così numerosi in nostra compagnia, naturalmente io vi aspetto la prossima settimana con l'Angolo di Ida, buona serata. Grazie.